Questo basterà. Il diavolo esiste? Commento. Il diavolo è uno stato di coscienza molto basso. Anche il paradiso, il purgatorio e l'inferno sono stati di coscienza. Stati interiori che l'individuo si crea sotto la spinta della sua evoluzione. La dannazione eterna non esiste, perché la persona che ha commesso le azioni più atroci arriverà nel corso delle vite a comprendere le sue esperienze lontane dall'amore. E questo basterà per non commetterle più.